L'aria natalizia ha contagiato anche l'Anfas Onlus di Modica, che per trascorrere al meglio queste feste ha preparato un calendario fittissimo di eventi che terranno compagnia a partire dalla seconda settimana di dicembre sino alla prima settimana di gennaio. Tutti gli appuntamenti proposti, pensati per grandi e bambini, verranno realizzati grazie al grande impegno dei ragazzi, delle famiglie, dei volontari, che speriamo regalino momenti di gioia a tutti coloro che vorranno unirsi a noi, dice Giovanni Providenza, presidente dell'Anfas Modicano. Si parte quindi con lo spettacolo teatrale targato Anfas Parole nel Vento, giovedì 17 dicembre alle 20 al Teatro dei Salesiani a Modica Alta, sabato 19 e domenica 20 alla Galleria Solaria, una giornata di solidarietà e di sostegno alla ricerca insieme e in sinergia con Teleton. Il giorno 23 dicembre invece è Santa Messa di Natale alle 19 nei locali della sede Anfas sulla circonvallazione ortesiana 206 a 1 e dato che per molti non sarebbe Natale se non si rispolverassero i giochi più classici, non poteva mancare la tombolata annuale. Con gli anziani della cooperativa Turi a Para, giorno 29 dicembre a partire dalle 16 sempre nella sede dell'associazione. Infine il 6 gennaio alle 18 per Befan Anfas, una Befana ad eccezione riempirà le vostre calze per rendere un po' più dolce la fine delle festività.